Da parte del governo. A Bemus Sariam. Dopo mesi di dispute e ripensamenti, il Consiglio Comunale di San Benedetto, con 19 voti favorevoli e 8 contrari, ha approvato l'accessione per 99 anni alla Fondazione Carisap di un appezzamento di terra fra Via San Pio e Via Togliatti. Un'area in cui realizzare la grande opera, cioè un campus scolastico, in cui integrare anche la scuola cursi. Un polo per attività didattiche e collaterali, destinato prevalentemente ai ragazzi. Una discussione durata oltre quattro ore, nel corso della quale non sono mancate stoccate, come quella del consigliere Mario Narcisi, che avrebbe accusato il sindaco Gaspari di portare avanti una politica clientelare. Secca la replica del primo cittadino che ha annunciato querela. Al momento del voto il PDL ha fatto fronte comune sul no, mentre l'altro grande oppositore di Gaspari, Daniele Primavera, ha motivato il sì al campus di Via Togliatti con la volontà di sostenere un progetto potenzialmente valido, sebbene partorito fra mille contraddizioni. E ora, trovata l'area, c'è chi scommette che naufragherà la mega variante, visto che aveva come unica finalità quella di individuare un appezzamento da cedere alla fondazione. La questione è che è cominciata male, gestita malissimo, un sindaco, un'amministrazione con poche idee, per giunto molto confuse, è arrivata alla fine a proporre un'area comunale alla fondazione Carisap tre giorni prima dell'ultimatum della fondazione stessa. Una grande opera che è stata la foglia di fico di una maxi variante che di fatto nasconde uno stravolgimento del territorio. E ora la parola passa alla fondazione e al suo presidente, Vincenzo Marini Marini, che potrà decidere se accogliere l'idea di Gaspari o tenere in considerazione l'ipotesi prospettata dalla società Col Verde di Gino Gasparretti, che vorrebbe ubicare la grande opera nella collina di fronte alla Guardia di Finanza di San Benedetto. Ipotesi che Gaspari ha già bocciato. Vorremmo non perdere questo investimento sul territorio, perché gli investimenti sul territorio vanno comunque a beneficio di tutti. Tutti abbiamo un terreno a disposizione e la società mi ha dato l'autorizzazione di mettere a disposizione un terreno per non perdere questi investimenti. Ci insospettisce perché probabilmente noi non riusciamo a capire le ragioni che stanno alla base di questa proposta, in quanto io penso che un benefattore, un filantropo non aspetta delle scadenze per poter mettere a disposizione un proprio bene o una propria risorsa per la collettività. Qui viene fatto, a mio modo di pensare, per altre ragioni che non vengono dette. Insomma, prima l'aria per l'investimento da 10 milioni non c'era, ora ce ne sono troppe.